L'amministrazione comunale di Sauca è vicino alle donne e contro la violenza, oggi siamo a Sauca, è stato realizzato un tappeto con noi l'assessore di Sauca. Cosa rappresenta questo tappeto e come mai l'amministrazione ha fatto questa iniziativa? La prima tappa del tappeto è stata a Mandanici il 24 novembre e io in quell'occasione ho ritenuto opportuno di fare un'altra tappa di questo tappeto perché far sì che il tappeto avesse ancora un continuo e non si fermasse solo a Mandanici ma in tutto il comprensorio della riviera Ionica e non solo. Quindi questa iniziativa è stata fatta proprio per questo, per dare forza alle donne perché i tappeti sono stati realizzati dalle donne, quindi dare forza alle donne contro il femminicidio e contro la violenza di genere. Tante persone sia privati che associazioni che scuole che comuni si sono dati da fare a realizzare altri pezzi di tappeto da aggiungere a quello di Mandanici, quindi noi tentiamo di divulgare questa iniziativa e farla passare ad altri comuni. È un tappeto lungo circa 300 metri, come dicevi tu rispetto a Mandanici si è allungato, hanno partecipato le scuole di Santa Seriva, diverse amministrazioni e diverse associazioni e questo vuol dire che tanti sono vicini alle donne anche se sentiamo dire nel mondo che ogni giorno c'è violenza verso il sesso femminile. Sì, purtroppo si ripetono questi episodi di violenza, si ripetono, basta aprire i giornali o ascoltare in televisione e telegiornale che questi episodi di violenza purtroppo si ripetono. Noi vogliamo far sì che la cultura della non violenza regni in tutte le persone. Stiamo facendo una campagna anche nelle scuole perché è proprio nelle scuole che la cultura della non violenza, nell'età in cui i ragazzi formano la loro personalità, vengono a contatto proprio con questa realtà ed essere loro a dire stop alla violenza sulle donne. Ieri sabato anche un segno positivo a Furcisicoli, è stata inaugurata la panchina, presente pure tu, un altro momento importante, diciamo che la nostra rive rionica è vicino a questa problematica, però noi dobbiamo diciamo che la nostra zona non soffre di questo grande problema che forse in altre città si manifesta molto più spesso e con tante violenze. Sì è vero, ieri c'è stata una bella manifestazione a Furcisicoli e noi anche qua a Sauca abbiamo l'idea di fare una panchina rossa proprio per indicare il no alla violenza sulle donne. Sì nelle nostre zone non c'è stato ancora e speriamo mai ci sia un episodio di questi, ieri c'erano due mamme di giovani e ragazze che sono state trucidate, una dal padre e una dal marito e quindi noi abbiamo modo di dire questo nostro no alla violenza e quindi la cultura della non violenza sia presente in tutti quanti noi per evitare appunto che ci siano altri episodi di questa violenza. Grazie